Verò non cascano con questa Vai vai fammela vedere, vai vai vai! Vai 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 Vai, p Danielle piano 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 spaha-p Jacques исpette! O scherzi non li punti la macchina O scherzi una macchina per riuscire mi se lo ai ce ne avete Ma va scherzi ora애 ma se scendiamo li facciamo scappare così e se ti puntano non lo so se ti puntano e i cinghiali non è che sono come i maiali ma dove sono uscite questi non vedono chiude luce ti devo passare l'ultima no fino a paura che ci ci puntano la macchina e ma che se motua cagnacimo ieri è una parola e portiamole vediamo piano piano a santa maria i cinghiali centro di santa maria mancavano solo i cinghiali guarda 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 c'era qualche fiumarella mi lanciamo no mi fai qualche macchina vediamo di nuovo oppure togliamo la strada togliamo la strada il fatto che il cancro il mare è chiuso in questo l'unico vediamo no vabbè ma tornano ora vediamo dove vanno questo non fai chiudicelo no vabbè Grazie a tutti.